Di recente gli USA e il Giappone hanno esagerato la minaccia militare cinese per intensificare le loro collaborazioni militari, creare divisioni tra blocchi e minare la stabilità della regione. Ci opponiamo fermamente. È risaputo. Gli Stati Uniti sono la più grande minaccia nucleare del mondo. Gli Stati Uniti possiedono il maggior arsenale nucleare al mondo e praticano il primo utilizzo. Inoltre hanno investito molto per promuovere la miniaturizzazione e l'uso pratico delle armi nucleari. Formare alleanze con armi nucleari. Diffondere il rischio nucleare all'estero senza scrupoli. Svelare apertamente l'intento di intimidire il mondo con la minaccia nucleare. Bisogna sottolineare che il Giappone, come unico paese ad aver subito un attacco nucleare, ignora la storia e asseconda gli USA, cercando la deterrenza nucleare. Questo stimolerà solo le tensioni regionali. Aumenterà il rischio di proliferazione e conflitto nucleare. Scarborough Shoal è territorio inerente alla Cina. Il portavoce del Teatro Meridionale dell'EPL ha descritto le pattuglie aeree e marittime congiunte vicino a Scarborough Shoal. La Cina agisce legittimamente per proteggere i suoi diritti e mantenere la pace. Il Mar Cinese Meridionale è casa comune regionale. Non deve diventare il terreno di caccia delle forze esterne. L'Unione con Nazioni Esterne per pattugliamenti nel Mar Cinese Meridionale Mina la dichiarazione sulla condotta. Minaccia la stabilità del Mar Cinese. Qualsiasi tentativo di mascherare i propri atti errati è destinato a essere impopolare. Gli Stati Uniti e altri paesi extra-regionali sono sempre ambigui. Usano le leggi internazionali quando conviene e le ignorano quando non conviene. Formano alleanze e causano problemi. Il Mar Cinese Meridionale non resta mai calmo. La Cina continuerà a prendere le misure necessarie. Azioni provocatorie che violano i diritti sovrani della Cina e destabilizzano la regione. Risponderemo con fermezza a. Grazie a tutti